l'operativo sta scappando il motorino sta scappando ha fatto in versione corso cavallotti corso cavallotti direzione corso italia c'è scappato è scappato di qua sinistra sinistra a sinistra verso basso cavallotti è ritornato su corso cavallotti ci stanno indicando la direzione di fuga vai 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 dove è andato dove è andato l'abbiamo perso eccolo 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 vai vai verso corso italia corso italia sta girando per via de casperi via de casperi è un mio bianco e rosso mio bianco e rosso grazie via giordano bruno via giordano bruno a salire il casco piano l'avevo visto ritornate indietro da di orsini verso di caprera ricevuto ricevuto andiamo siamo sopra siamo sopra